Scusate Grazie. 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 Gira il bacino Vai di nuovo Un minuto Emma 50 secondi Aspetta Stanley, stai lì, stai lì, aspetta eh Stai lì, non ti muovere di lì, mancano 30 secondi, non ti muovere di lì, se ce la fai metti il tuo braccio destro, il tuo braccio destro, il tuo braccio destro, non ti muovere di lì, tu puoi fare il pianto Stai lì, 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 stai l Grazie a tutti.